L'inchiesta culminata nel blitz con 53 misure cautelari ai quartieri spagnoli è utile per inserire in un contesto più ampio fatti di cronaca degli ultimi anni con più o meno risalto. Come la morte di Ugo Russo, il 15enne ucciso da un carabiniere fuori servizio a cui tentò di rubare l'orologio. Russo era con un complice, un 17enne, che quella notte si costituì. Mentre era sotto interrogatorio furono esplosi diversi colpi di pistola contro le mura della caserma pastrengo dei carabinieri. Una stesa ritorsiva che suscitò troppo clamore investigativo danneggiando l'attività di spaccio. Per questo, come emerge da una intercettazione, Edoardo salta la macchia a capo di uno dei gruppi criminali smantellati insieme a Vincenzo Masiello e Antonio Esposito, chiese ai genitori dei due ragazzi, autori del gesto, di far costituire i figli poi arrestati. Masiello in una conversazione registrata disse di aver dato anche 300 euro alla famiglia di Russo per le esequie. In un altro summit fu deciso l'omicidio del padre di Luigi Caiaffa, il ragazzo ucciso nel 2020 per le legittima difesa da un poliziotto durante una rapina. La sentenza di morte per Ciro Caiaffa arrivò perché questi voleva spacciare senza autorizzazione nella zona di competenza del clan. L'organizzazione, operante tra i quartieri spagnoli e la Pignasecca, voleva anche imporre a titolo estorsivo i propri raccomandati per le assunzioni nelle dita esterne di pulizia degli ospedali. Il progetto saltò perché fu riferito ai capi che, al vecchio pellegrini, ci sta uno che appartiene al clan Vastarella, si legge in un'altra intercettazione. Una dichiarazione che al momento non ha trovato riscontro investigativo. A capo dell'altro sodalizio c'era invece Carmine Furgiero, anche lui finito in manette. Qualche mese fa fece installare sulle scale di un vicolo dei quartieri spagnoli le sagome dei calciatori del Napoli, già in odore di scudetto, e decise di posizionare anche una sagoma che lo ritraeva in smoking accanto al presidente De Laurentiis.